Il Palermo del settore sociale assistenziale di dopre e di interventi per i stabili tratterà il superamento del concetto assistenzialistico dell'inferimento sociale di un cittadino con soggetto attivo, contattore di diritti a cui devono essere destinati. Io sono Volterra, l'assistente sociale del comune di Palermo, unità organizzativa interventi e non abili. Superamento della logica assistenziale, presuppone fare un minimo di percorso storico. Allora, fino agli anni 80 una famiglia arrivava, scoggetteriava, aveva un problema, casa, lavoro economico e lo Stato derogava una prestazione, soldi, casa, l'interno della famiglia, un bambino maltrattato o gli interventi per il comune, però non era in una casa famiglia. Quindi alla domanda sociale, alla richiesta da parte di un soggetto, lo Stato rispondeva con una prestazione. Questo nell'ambito sociale. Parallelamente questo succedeva anche nell'ambito sanitario. Si è chiesto, dopo gli anni 80, che questo sistema non produceva né crescita né cambiamento. Anzi, si dice che si induceva la domanda sociale. Il bisogno cresceva in maniera esponenziale. Vuole un passaparola o un altro. A quel punto si pensa di cambiare sistema. L'ente più vicino al cittadino è il comune. Quindi voi immaginate tutto quello che il comune dovrebbe in qualche modo affrontare. E nasce un sistema che è da welfare state, quindi lo Stato risponde a intorno ai bisogni del cittadino per garantire i diritti saggiti dalla Costituzione, diventa un welfare bis, dove comincia ad entrare in gioco del privato sociale, con un sistema molto spesso di convenzioni. Ma anche questo sistema in parte risulta fallimentale. Nel 2000 arriva la legge 328. La legge 328 è una legge di grande, è una legge uguale, una legge nazionale, una legge che è di grande innovazione. Perché per la prima volta vede dopo i mondi l'ambito sociale, l'ambito sanitario. Vede quello che oggi chiameremo appunto integrazione sociosanitaria. A quel punto tutto un sistema che è stato costruito in una cittadina deve essere chiaramente sconvolto e modificato. Intanto ricordiamo che il comune è l'ente più vicino al cittadino e sul principio saggito dalla materia 28 che è quello della sussidiarità, il comune è quello che imprende in primi stanza i bisogni del cittadino, di decodifica e stabilisce quelle che sono delle politiche sociali di intervento. Allora cominciamo a parlare di una struttura dove la richiesta di bisogno deve essere molto proposto, dove il cittadino diventa protagonista, è quello che in qualche maniera diventa attore del suo processo di cambiamento o la richiesta di un bisogno è la possibilità di avere anche più scelta, diciamo, rispetto anche a quello che il cuore per sopravvivere quello che ha il suo bisogno. e il n328 si pone come uno strumento che mi piace. Mi sentite senza lo strumento? Mi sentite senza lo strumento? E' una strumento che la richiesta comincia a pensare che nella voglia della domanda sociale bisogna creare degli organismi vicino al cittadino. E' un'altra credenza del tavolo di amici. Il tavolo di amici 4 non è un valore, ma è un valore di amici in maniera valide, in istituzione, in questo caso l'università, il privato sociale, il tavolo di amici, a qualsiasi cittadino, portatore di distanze,